buonasera buonasera amici come state oggi è sabato sera tutti vanno a spasso e io sto qui a raccontarvi delle storie di moda tendenza e creatività ok tutto fantastico e da un po di tempo mi state vedendo che sto realizzando questi cartoni animati per sia una parte dei libri che sto scrivendo di favole che è l'educazione e creare dei tutorial animati preparatevi che sarà una bella novità ma già è una bella novità quello che sto facendo giusto bene allora io sono molto emozionato quando parlo qui insieme a voi con il mio avatar mi sto divertendo facciamo un po di musica poi ho dei personaggi nuovi come il gatto ciac che mi sto divertendo moltissimo è molto briscolo molto è uno che fa come gli pare perché i gatti fanno sempre come gli pare è anche vero che è divertente parlare con voi di moda di tendenza la creatività eccola qui e quindi in questo momento che sto registrando sto provando le mosse adesso per giocare insieme a voi cambierò movimento vediamo che cosa succede allora adesso mi sono fermato e quindi andiamo avanti e mi sono anche rilassato mi sono fermato e mi sono rilassato ma posso anche fare il poeta è bellissimo no posso anche prepararmi alla lotta perché è una cosa che a me piace tantissimo posso anche spaventarmi con questi movimenti di karate vale perfetto mi metto seduto perché da seduti si riesce sempre meglio a fare le cose questo è un bellissimo cartone animato per far vedere i vari movimenti che potremmo 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 realizzare tutto è ok vi saluto alla prossima puntata yes ciao